Come con con designed Ciao ragazzi, qui Ricc e oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi siamo in un nuovo episodio di Fortnite News In cui andremo a vedere l'ultima immagine postata sul profilo Instagram di Fortnite A differenza delle due precedenti, questa immagine non fa riferimento a epoche storiche, cioè a epoche dell'Egitto o dei vichinghi come stato e neanche a epoche future, ma bensì contiene delle parole, ovvero collisione dei mondi. Dobbiamo interpretare queste parole prendendo le diverse epoche che ci sono state descritte e trasformandole in mondi che andranno a collidersi, a fare una collisione e creeranno la nuova mappa di Fortnite, credo, che sarà divisa in aree, comunque ogni città avrà un riferimento storico, futuristico, come vi sto per anticipare. Infatti dal web è trapelata un'immagine che descrive le varie città e i vari cambiamenti nei loro nomi. Vi lascio l'immagine qua in sovraimpressione così potete leggere tutti i nomi delle varie località, però ve ne leggo alcuni insieme. Per esempio, Pinnacoli Pendenti, che in inglese è Tilted Towers, diventerà Triassic Towers e farà riferimento appunto ai dinosauri. Invece Acri Anarchici farà riferimento agli egizi e diventerà Acri Antichi. Il tetto bisunto, che in inglese è Gracie Groove, diventerà Golden Groove. Farà riferimento all'epoca dell'oro in cui appunto nelle miniere e nei laghi si andava col setaccio per cercare l'oro. La seconda del saccheggio, che in inglese è Loot Lake, rimarrà con questo nome, comunque dovrebbe rimanere con questo nome, poiché farà riferimento all'epoca dei pirati. E tante altre città, tante altre location cambieranno di nome per appunto adattarsi all'epoca temporale a cui fanno riferimento. In più ragazzi, sempre qua in sovraimpressione, vi lascio l'immagine di una mappa che non è un concept, quindi non è stata disegnata da qualcuno, ma dovrebbe essere leak della vera e propria mappa della season 5. A me non sembra tanto realistica e non sembra da Epic Games, però potrebbe essere questa. Vediamo che appunto è quasi completamente desertica, la parte superiore, quindi da sponda del saccheggi in su c'è un po' più di vegetazione, un po' più di alberi, un po' più di verde. Per il resto invece vediamo quasi tutto giallo, quindi non è molto bella come mappa. Voi direte, sì, adesso è tutto pieno di alberi, è tutto verde, però comunque è meglio che tutto giallo, cioè credo che sia abbastanza logico. Ragazzi, se domani mattina alle 9.50 dovrebbe essere quando ci sarà appunto la collisione tra questi mondi, l'inizio della season 5 porterò una live, poiché non ho la possibilità in questo momento di prendere il season pass. Naturalmente lo prenderò, vi porterò dei video, però in questo momento, quindi anche domani mattina, non ho la possibilità di appunto prendere questo season pass. La mattina vedremo se tutte le mie teorie saranno vero oppure saranno false, se la mappa sarà questa, liccata, e se i nomi delle città cambieranno in questo modo, se il tema sarà appunto collisione delle epoche, quindi ci saranno epoche diverse, future, passate, eccetera, eccetera. Tutto domani mattina ragazzi, non vedo l'ora, è ora anche di vedere le nuove skin, da appunto il season pass, quindi ci becchiamo magari, forse, non si sa, domani mattina, magari porterò un video domani pomeriggio, e vi spiegherò un po' di dinamiche, se ci sarà qualcosa da chiarire. Comunque per questo video è tutto, consiglio di rinunciare un bel like, un commento, di condividere, di schiacciare, il canale, il passaggio, il social, il posto, il posto, in descrizione. Quindi questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bye bye! Grazie per la visione!